Ma è un contributo di concretezza, si è detto in questo convegno che bisogna tornare alla ricchezza reale, alla produzione reale, alle analisi vere delle questioni, bisogna capire che ad esempio in Tunisia ma anche in Sicilia, nelle aree interne della Sicilia ma nelle aree interne della Tunisia c'è un bisogno di sviluppo enorme e grandissimo, allora siccome i territori sono rappresentati dai comuni, sono rappresentati dai cittadini è arrivato il momento che i comuni diventano attori principali di questa azione trasfrontaliere per cui prendiamo atto che c'è bisogno di ripopolare le aree interne, fare ripartire tutte quelle attività che poi sono veri strumenti di produzione di ricchezza reale e quindi fra Tunisia e Sicilia ma soprattutto fra comuni siciliani e comuni tunisini, fra cittadini siciliani e cittadini nasca finalmente un rapporto di relazione importante che porta finalmente allo sviluppo, all'innovazione ma soprattutto al benessere delle comunità. Per quanto riguarda il settore dei fondi da destinare alle politiche trasfrontaliere l'Anci insiste fortemente nell'individuazione dei bisogni e quindi delle imprese private che possono fare praticamente relazioni e collaborazione con le imprese tunisine e indirizzare le risorse dei fondi strutturali direttamente allo sviluppo delle imprese, ad esempio ci sono delle imprese siciliane che hanno un know-how veramente importante a livello internazionale e che possono rappresentare per le imprese tunisine veramente un aggancio per far sì che si passi allo sviluppo vero e si diventi competitiva a livello internazionale. Grazie